Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale totalmente dedicato alle notizie sul coronavirus. Cominciamo dai provvedimenti ai quali sta lavorando il Governo per cominciare quanto annunciato stasera dal Ministro della Salute Speranza e cioè che le misure di contenimento molto probabilmente saranno prorogate fino a dopo Pasqua. Poi il Governo sta lavorando a una nuova misura di sostegno al reddito per tutti coloro che in questo momento non hanno entrate e che non sono neanche rientrati nel gruppo di coloro che potranno accedere ai famosi 600 euro. Ma vediamo il servizio che ci dice tutto. Nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico svoltasi questa mattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il Governo si muoverà in questa direzione. Lo annuncia il Ministro per la Salute Roberto Speranza confermando le indiscrezioni che già circolavano da giorni. Probabilmente il nuovo decreto di Conte seguirà un Consiglio dei Ministri che potrebbe tenersi mercoledì o giovedì. Intanto il Governo è al lavoro per perfezionare il nuovo decreto con altre misure economiche per aiutare oltre il sistema produttivo anche chi non riesce più ad acquistare beni di prima necessità. L'ipotesi più probabile avrebbe già un acronimo, REM, che sta per reddito di emergenza, un'erogazione provvisoria perché è rimasto fuori da tutti gli altri provvedimenti di sostegno e non a chi è già beneficiario del bonus di 600 euro previsto dal Cura Italia e nemmeno ovviamente a chi si trova in cassa integrazione o percepisce altro tipo di sostegno sociale. D'accordo per il REM, 5 Stelle, l'EU e il Partito Democratico, i tecnici del Ministero stanno cercando in queste ore di definire la platea. Ci rientrerebbero tra gli altri colfa, badanti e tanti lavoratori precari, si potrebbe arrivare a circa 3 milioni di persone. Ma in giornata torna a far sentire la sua voce anche Beppe Grillo che dice un reddito di base universale per diritto di nascita destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi. L'idea comunque è subito bocciata dalle opposizioni, mentre i pentastellati la definiscono buona, ma per il futuro. E sul fronte della malattia i numeri di oggi ci dicono che c'è un graduale rallentamento dei contagi. Ce ne sono stati molti di meno rispetto a ieri, anche se resta purtroppo alto il numero delle vittime più di 800. Le persone che hanno perso la vita ieri per il Covid-19, anche se è troppo presto dirlo, però sembra che ci sia un piccolo barlume di speranza. Vediamo il servizio. Una nuova soglia psicologica è stata superata, quella dei 100.000 contagi accertati dall'inizio dell'emergenza. Ha raggiunto la quota di 101.739. Nel complesso cala il numero dei nuovi casi, cresce quello delle persone guarite, altre 1.500. Ancora non diminuisce il numero dei morti, 812.000, più della metà si registrano in Lombardia, dove comunque la diffusione rallenta e di conseguenza diminuisce la pressione sui ricoveri ospedalieri e, cosa più importante, sui reparti di terapia intensiva. In generale i numeri dicono che la crescita dell'epidemia rallenta in molte regioni. Aumenta con un trend che risulta ancora gestibile in Campania, Puglia, Sardegna e Molise. Negli ultimi cinque giorni la crescita del virus si è quasi dimezzata, ma in molti casi la fotografia quotidiana della protezione civile, ottenuta sulla base dei dati regionali, dipende dalla diffusione dei test del tampone sulla popolazione, che non è omogenea sul territorio. A nord-ovest continua ad essere critica la situazione nell'Alessandrino, provincia dove la percentuale delle vittime e dei contagiati è quasi doppia rispetto a quella, ad esempio, di Torino. Con un cluster particolarmente grave a Tortona, 27.000 abitanti e già 70 morti nel mese che sta per concludersi, con un contagio diffuso anche nella casa delle suore missionarie intitolata Donorione, che ha già causato sei vittime tra le religiose. Negli Stati Uniti Donald Trump ha deciso che le misure di distanziamento sociale resteranno in vigore fino al 30 di aprile. Gli Stati Uniti hanno ormai 160.000 persone positive e sono quasi 3.000 le vittime per la malattia. Oggi, in una telefonata col Premier Giuseppe Conte, Trump ha anche fatto sapere che continuerà ad aiutare il nostro Paese, non solo con i respiratori come fatto finora, ma anche con 100 milioni di dollari. Resta difficile poi la situazione in tutta Europa, dove i casi di contagio sono oltre 400.000. Vediamo il servizio. Per affrontare l'emergenza coronavirus, Viktor Orban ha ottenuti pieni poteri, rinnovabili, senza limiti. La legge speciale è stata approvata oggi dal Parlamento ungherese e consente al Premier di fare praticamente ciò che vuole, governare per decreto, chiudere il Parlamento, sospendere leggi e le elezioni e determinare quando l'emergenza finirà. Colpita anche la libertà di informazione, chi diffonderà fake news sulla pandemia rischia una condanna fino a cinque anni. Le opposizioni parlano di colpo di Stato messo a segno con il pretesto del virus. Bruxelles sta valutando la legge votata, mentre in Italia Orban viene attaccato da PD e Italia Viva, ma difeso da Salvini, che parla di libera scelta del Parlamento Maggiaro. Per ora in Ungheria il virus ha infettato solo 450 persone e causato 15 vittime. Ben altra situazione nel resto d'Europa, dove è stata raggiunta quota 400.000 casi. Italia, a parte la Spagna, il paese più in difficoltà, con oltre 85.000, ha superato la Cina per numero di contagi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 812, lieve calo rispetto al giorno precedente. Casi in aumento anche in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Gran Bretagna, dove cresce anche il numero delle vittime, ma con un trend in calo rispetto agli ultimi giorni, guarito e non più in isolamento il principe Carlo. E per concludere, una nave e un aereo della Mezzaluna Rossa sono in partenza dalla Turchia per portare aiuti al nostro paese, lo ha confermato il ministro degli esteri turco, Djavuzoglu, al nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio. Questa era l'ultima notizia di questa edizione breve. Tutti gli aggiornamenti tornano domani mattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.